Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Ha vinto due edizioni di Sanremo, collezionato 35 dischi di platino e 10 dischi d'oro e ora debutta come doppiatore. Nel film e la reaction della Disney, La Sirenetta, in arrivo il 24 maggio al cinema, la voce italiana del granchio Sebastian sarà quella di Mahmoud. Il 13 maggio, alla Liverpool Arena, Mahmoud sarà ospite nella serata finale dell'Eurovision Sound Contest. News dal mondo della voce, radio doppiaggio, Voci.fm, il magazine.